Oggi abbiamo convocato Giunta regionale e i comuni interessati per capire e per spiegare ai cittadini cosa comuni e regioni intendono fare nelle aree della città di Caserta, dei comuni di Recale, Casa Giove, nell'area cosiddetta di Ponte Selice. La raccolta differenziata e un'impiantistica che necessariamente ne completi il ciclo dei rifiuti oggi diventa essenziale per evitare di andare in emergenza e questo è il dovere delle amministrazioni comunali ma anche della Giunta regionale della campagna. Noi siamo qui ad accendere i riflettori e ad essere da stimolo affinché si faccia bene.